Nel nostro colloquio della settimana scorsa vi ho raccontato della trovata pubblicitaria di una ditta che per vendere la cioccolata di sua produzione ha stampato sulla scatola che contiene le tavolette di cioccolata e dieci comandamenti. Qualcuno di voi mi ha incontrato, qualcuno mi ha anche telefonato dicendo ma è possibile che siamo arrivati a tanto pur di vendere la cioccolata? Dico sì, ma non c'è da preoccuparsi, il cristiano resta sempre cristiano, dice sì, ma se per esempio un versetto sura di Maometto fosse stato stravolto così, dice lì ti fanno fuori, ma vabbè, noi cristiani ovviamente dobbiamo avere un cuore aperto. Però mi è stato detto anche, dice ma allora ci dica anche degli altri comandamenti stampati sulla cioccolata, sulle scatole, perché così non c'è comandamenti perché ne abbiamo bisogno. Allora sentite, io ero in autostrada, l'altra volta non le avevo comprate, sono passato nell'autogrid e ho preso appunto le scatole di cioccolata e vediamo, il secondo comandamento, noi lo sappiamo, dice non nominare il nome di Dio in vano, invece e ci insegna davvero una cosa bella, ho imparato in Brasile, perché in Brasile non bestemmiano soltanto, come sapete la settimana scorsa, anzi dicono il signore ti renda merito. E allora loro l'hanno stravolto, non nominare il nome di Dio in vano, non nominare il cibo degli dèi in vano. Vabbè, la cioccolata è il cibo degli dèi. Poi, voi sapete, l'ottavo comandamento dice non dire falsa testimonianza, cioè stabilisci rapporti veri con le persone, ecco, è bello questo qui, no? Tutti sentiamo il bisogno di rapporti veri, con i bambini si dice non dire le bugie. Invece sentite come hanno stravolto l'ottavo comandamento, non dire che non ti piace il cioccolato, povero, ma insomma sono le relazioni vere, non con il cioccolato, ma con le persone. E poi il nonno comandamento è, voi sapete, lo dice, non desiderare la donna ad altri, che significa rispetto tra le persone e anche rispetto della donna, insomma, non può essere usata come oggetto, ma nemmeno noi uomini possiamo, nessuno vuole essere così usato come un oggetto, è bello il rispetto della persona, no? E è stato tradotto in modo anche un po' provocatorio, non desiderare la donna ad altri, è stato tradotto non desiderare la tavoletta ad altri, vabbè. Ed infine concludo, il decimo comandamento, non desiderare la roba degli altri, cioè rispettala, anche le cose pubbliche, anche i ragazzi insegnavano a rispettare gli altri pubblici, ad esempio le cose, una seggio e così via, è stato tradotto non desiderare la cioccolata ad altri. Bene, torniamo ai comandamenti, le cioccolate però le devo regalare perché io lo comprate ma lo posso mangiare mica tutte io, eh? Grazie.